A Scalea, cancellato il servizio autobus urbano, cittadini, genitori e studenti del liceo scientifico Metastasio sono preoccupati. Firme proteste per chiedere quanto era un diritto ormai consolidato, ma che invece è stata, a detta degli utenti, ingiustificatamente tolto dalla gestione commissariale. Il disagio è grande e coglie le famiglie completamente impreparate a superare questa difficoltà inattesa, organizzativa ed economica. Da anni, infatti, il comune di Scalea disponeva di un bus dell'azienda Autoservizi Prete per la linea urbana, che serviva soprattutto, ma non solo, per gli spostamenti degli studenti che frequentano l'Istituto Superiore, ubicato ad alcuni chilometri dal centro abitato. Sarebbe la mancanza di fondi, la causa dell'eliminazione del servizio, che sta creando notevoli disagi, che aumenteranno con l'arrivo delle brutte giornate. Genitori e studenti chiedono al commissario Mariani di ritornare sulla decisione e si rendono disponibili ad un confronto sereno e costruttivo. Il dirigente scolastico, professoressa Elena Cupello, a cui abbiamo chiesto una dichiarazione, afferma Nell'ultima adunanza che ho fatto con i genitori, il 29 ottobre, abbiamo raccolto le firme dei docenti, del dirigente, dei genitori e degli alunni e le abbiamo trasmesse, scannerizzate alla regione Calabria, alla provincia, al commissario e al vicecommissario. Tutti i cittadini, soprattutto gli anziani e quelli impossibilitati ad utilizzare l'automobile che vogliono raggiungere l'ASL in località Petrosa, vivono anch'essi una stagione di grande disagio e si chiedono se è mai possibile che si sprecano tanti soldi e poi a farne le spese devono essere sempre i cittadini privati dei servizi essenziali. Il commissario prefettizio Massimo Mariani ha commentato la vicenda dichiarando stiamo cercando di trovare una soluzione ma c'è bisogno che la provincia e la regione ci diano una mano.